Forza signori, adesso non siamo in gara, potevo fare come che volevo. Vivo intera di frontiera, sono un fiero istriano, ma non esiste una corriera che mi porti più in pirà. Se per caso stago male e devo andare in ospedale, la mia unica speranza è che arrivi un'ambulanza. Quando ieri ero io sei trans, non avevo l'autotrans, con la vecchia parenzana, tutta fumo carbonetero, mi tristez è che vero, mi servirò un rollo intiero, en quel paese o final, e era il trasporto sicurato. Se vuole un'ora la mattina, fino a poco l'ago di andare, non c'è neanche una corriera, e mi non so come far. Per fortuna se resta, una corriera sconfussata, e così coinviò la scuola, rivo fino a vicinata. Quando ieri ero io sei trans, non avevo l'autotrans, con la vecchia parenzana, tutta fumo carbonetero, in Trieste, è che vero, mi serviva un giorno intiero, ma in quel paese ordinato, e era il trasporto sicurato. Quando ieri ero io sei trans, non avevo l'autotrans, con la vecchia parenzana, tutta fumo carbonetero, in Trieste, è che vero, mi serviva un giorno intiero, ma in quel paese ordinato, e era il trasporto sicurato. In quel paese ordinato, e era il trasporto sicurato. Me vien proprio a me pensar, senza alcuna via d'envenso, che se stava molto in mello. Quando che se stava pensando, quando io sei eserato, quando io ero io sei eserato.